tutte le info al 3 3 3 15 11 70 3 cosa ho visto papella cosa vuol dire non sblocca più youtube cosa vuol dire non sblocca più youtube che vuol dire non sblocca più cosa vuol dire papella youtube non sblocca fino a quando molti fanno nascondi cosa vuol dire non sblocca più youtube che vuol dire youtube non sblocca più quando in molti fanno una scusa a non sblocca più che devo dire ma cosa vuol dire non sblocca più in che senso cosa vuol dire non sblocca più cosa vuol dire non sblocca più a se capace a scrivere papella cosa vuol dire non sblocca più se tu se tu blocchi max e poi lo faccio io per inverso sbloccava a se capa se io blocco una persona non sblocca più se un altro lo sblocca non sblocca più vabbè non lo so non ho capito bene comunque se funziona meglio quando i moderatori blocchi una persona contemporaneamente non viene sbloccato a ok ok a bene bene a quelle ho capito ho capito brava pella sei riuscito a esprimerti bravo papella bravo papella bravo papella bene bravo papella ok va bene un saluto a tutti e ci vediamo e ci vediamo più tardi ci vediamo più tardi ciao